Festa del patrocinio di Santa Lucia, completamente diversa rispetto a quella che si è sempre vissuta e i siracusani sono abituati a festeggiare. Per quest'anno ci saranno due celebrazioni via streaming con l'esposizione del simulacro di Santa Lucia, appunto per la festa del patrocinio, e poi una nuova esposizione durante l'anno. Ogni 13 marzo, infatti, sarà esposta per ricordare le persone decedute e ringraziare chi in questo periodo di emergenza sanitaria ha aiutato gli altri. Intanto, domani, sabato 2 maggio, si svolgerà il Rosario e la Messa celebrata da Monsignor Salvatore Marino, parroco della Cattedrale, nella Cappella di Santa Lucia, e poi domenica 3 pontificale presieduto dall'arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta via streaming. Anche per quest'anno, nonostante si svolga in maniera diversa, Tris segue comunque gli eventi dedicati al patrocinio di Santa Lucia. Già maggio quest'anno saremo qui, appunto, in attesa degli eventi, però sempre un momento significativo e un momento toccante, vedere poi riaprire la nicchia di Santa Lucia sia sabato prossimo alle 17.30 con la celebrazione, prima il Rosario e poi la celebrazione della Messa con Padre Lido e il parco della Cattedrale. E poi domenica alle 11 ci sarà il pontificale con Sua Eccellenza d'Arcivescovo. Saremo lì, apriremo le porte, ma il cuore sarà triste perché, come sempre, io specialmente organizzavo la preparazione della festa, il montaggio dell'altare maggiore, con tutti gli arredi, sia della cappella che dell'altare maggiore, preparare le trave per i portatori, per i portatori. I berretti verdi che io stimo moltissimo, come stimo moltissimo anche le ragazze, le donne, le furale verde, ci mancherà qualcosa, veramente. Quindi, Grazie a tutti.